Tutti al 99% non ci sarà un vincitore, vinciranno tutti. Mamma mia che voleva fare maggiore. Ruleta, ruleta a destra e un po' a sinistra. Quell'analogico tenuto lì premuto. Aia! Ruleta! Vola so Carlo! Bowling ancora! Fuori 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 fuori! Ma danni in Stacassi l'autogestione che sta a seguito. Quanto pesa in autogestione? 25 per no mamma! Ciao! Quanto siamo Marco? 2 a 2! 2 a 0! 2 a 0! 2 a 0! 2 a 0! Non ci deve fare gli autori natali! Buona buona buona! Buona buona! Buona buona buona! È uscita ora! Buona 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 buona! Mamma mia, spero di averlo preso bene, ho visto anche farlo, ho voluto vedere, con sinistro Murano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.